Il comissario dell'Udc, peraltro nominato da appena qualche giorno, prima di avventurarsi in argomenti che non conosce, farebbe bene informarsi. Replica così l'assessore ai servizi sociali del comune di Comiso, Salvatore Schirmo, alle dichiarazioni di Luca Barone, neocommissario dello scudo crociato cittadino. Dal dicembre scorso, spiega Schirmo, si attendono ai trasferimenti regionali relativi alla borsa lavoro e l'amministrazione comunale, con fondi propri, si è attivata a garantire il servizio, affidandolo secondo le normative vigenti ad una ditta privata che fornisce automezzo e autista, oltre alla manutenzione del mezzo meccanico. Ma non c'è stata nessuna sospensione del servizio, assicura Schirmo, il vecchio automezzo, ovvero quello sponsorizzato da altri privati. Inutilizzato proprio per questo motivo è a disposizione delle scuole, le quali sono state invitate con lettera a richiedere l'utilizzo in caso di bisogno. Allo stato attuale, assicura l'assessore ai servizi sociali, non è pervenuta nessuna richiesta né da alcuna scuola né da altre associazioni di anziani.